I rimborsi forfettari all'80% già liquidati dal Fondo Interbancario per gli obbligazionisti azzerati delle quattro banche poste in risoluzione lo scorso 22 novembre, Banca Etruria, Banca Marche, Carife e Carichieti hanno superato i 7,7 milioni e con il prossimo flusso di mercoledì arriveremo attorno ai 10 milioni. Così Salvatore Paterna, vice direttore generale del Fondo Interbancario, finora sono arrivate 3.390 domande in genere da piccoli e piccolissimi risparmiatori, gli assegni già liquidati per il 97% sono di un importo inferiore ai 50 mila euro e di questi il 60% è inferiore a 10 mila euro. Intanto giovedì 3 novembre i risparmiatori dell'associazione Vittime del Salvabanche incontreranno il procuratore capo di Arezzo Roberto Rossi, titolare delle inchieste sull'Istituto di Credito Aretino. L'associazione nell'occasione depositerà un altro esposto. Avrà delle forti ripercussioni, si legge in una nota dell'associazione, sia nei filoni delle indagini penali in corso che per le azioni di risarcimento che i risparmiatori faranno valere in sede civile. All'esposto hanno lavorato il tecnico dell'associazione Alvisa Guti e Vincenzo Lacroce, presidente di Amici di Banca Etruria ed ex funzionario di Banca d'Italia.